Ciao ragazzi e ciao ragazze, un altro shopping non finiranno mai. Siccome ci sono i saldi non ho approfittato, tranne in questo, che adesso vi farò vedere che cos'è. Allora, è la prima volta che acquisto su questo sito, volevo provarli e vediamo come mi trovo. Se mi trovo bene e che funzionano, li ricomprerò. La scatola è questa, si presenta così. Allora, ovviamente avete letto dal titolo, dello So Shape, se ho detto giusto. E siccome su Instagram ho visto che molte persone, specialmente quelle famose, parlavano di questi prodotti, che adesso vi mostro, allora ho detto perché non provarli, tanto alla fine, con tutti i prodotti che provo, non c'è. Ho detto, vabbè, proviamo anche questo. Devo dire che prima di tutto, quando mi è arrivato il pacco, era aperto. Cioè, nei lati, qui e qui, il pacco era aperto. In mezzo l'ho aperto io, per vedere se c'erano tutte le cose coordinate. E invece, nei lati, era aperto. Adesso, non lo so. Diciamo che questo prodotto viene dalla Germania, da quello che ho capito. E che, ovviamente qua, siccome devono passare la dogana, perché io sono vicino alla Svizzera, giustamente, di sicuro, la Svizzera ha aperto il pacco per controllare che cos'era. L'unica cosa che a me non... Cioè, come spedizione ci vogliono 4 giorni, e 4 giorni sono tanti. Di solito, quello che compro su internet, in 2-3 giorni arriva. Ma non in 2-3 giorni. Certe volte, 1-2 giorni, mi arriva subito il pacco. Invece, in questo sito, ci vogliono 4 giorni. La spedizione costa troppo. Vi dico già che la spedizione costa troppo. E non lo so. Secondo me, con la spedizione, è un po' 8 euro di spedizione troppa. Devi spendere 66 euro per far sì che non paghi la spedizione. Io ho speso 57. Qua il foglio. Dovrei avere speso 57. Perché ti fanno vedere praticamente la lista di quello che hai preso. E vabbè, l'ordine. Però no, non c'è scritto il numero. Vabbè, dettagli. Allora, il pacco si presenta così. È messo. Vediamo se riesco a farlo vedere. È abbastanza carino. Si chiama SoShape. Spero che ho pronunciato bene. Allora, questo è il libricino. Adesso non so che cosa c'è dentro. Perché lo sto guardando insieme a voi. Vabbè, qui vi saluta. Se questo programma ti piace. Seguiti consigli. Allora, poteri dello Smart Mail. Ti dice quanti gusti ci sono sul sito. Non so, io ve lo dico se siete interessati. Non lo so. Poi, vabbè, il metodo di sicuro vi fa capire queste cose qui. Praticamente questo è il libricino. Come si usano, come vanno usati praticamente queste cose. Dovrei leggerlo perché così sinceramente non riuscirò a capire. Ah, e poi c'è anche qualcosa da cucinare. Tipo il budino, la mousse leggera, la torta salata. C'è anche le ricette dove tu puoi cucinare. E vabbè. Poi ci sono gli snack che io non ho preso. E in più ti dice anche le vitamine, i minerali. Tutte queste cose varie che non credo che vi interessa. Almeno, non lo so. E niente. Questo è SoShape. La prima volta che acquisto. Diciamo che come spedizione mi sono trovata un po' così così. Perché 8 euro è tanto. Poi devi spendere 67. Io ho speso 57 qualcosa. Devi spendere 66. Comunque, ho preso questo qui che si presenta così. Lo vedo insieme a voi. Che è molto carino. C'è rosso e blu. Questo è gratis. È fatto così. Spero che si vede dal telefono perché ho la GoPro scarica. Tutte le volte che devo registrare ho la GoPro scarica. E' l'unica che si vede decente a confronto del telefono. Vabbè. Si apre. Ovviamente questo lo dovrei lavare. E questo è dentro. Quello che in teoria dovrei mettere. Questo era gratis. È carino. Io l'ho scelto blu. Perché è rosso. Boh, non lo so. Non mi convince. Invece, il bello. Ups. Ho fatto cadere tutto. Sono una cosa bestiale. Comunque, volevo dire. Ora, si presenta così. Sembravano pochi. Ma invece sono tanti. Si presentano così. Non so se si vede. Adesso li vediamo insieme. Siccome è la prima volta che acquisto. Li volevo provare. Li proverò. Ovviamente io sto registrando in agosto. Per cui io per cinque giorni proverò questi in agosto. Voglio vedere più o meno quanto peso. Non meno. Allora, vi dico i gusti che ho acquistato. Allora, caramel. Il caramello. Che è questo qua. Adesso non so quanti grammi sono. Non c'è scritto. Comunque questo. Il caramello. I maccheroni al formaggio. Che ovviamente dovrebbero essere qua. Sembrava di più. Questi sono maccheroni al formaggio. Poi il risotto ai funghi. Che è questo. Reggio ai funghi. Poi il cappuccino. Cheesecake al limone. Non so se si vede. Ma va bene. Non si legge. Poi il risotto al curry. Qui c'è la pasta. Che sarà uno di quelli lì. Non lo so. E qui ci sono i... Questi sono i risi. Il riso. Non sono tre. Perché non ho scelti tre. Poi questo è il frappè al lampone. Poi c'è la torta di fragole. Se non mi sbaglio. È scritto in inglese. Per cui io non lo so in inglese. Ma non è che faccio a caso. So più o meno quello che ho preso. Poi la pasta alla bolognese. Mamma mia. Questa. E per ultimo la carne al chili. Spero che non è piccante. Ma qui c'è scritto chili. Non mi ricordo se è piccante. Non lo so. Comunque queste sono le cose che io ho acquistato. I pacchetti erano dai cinque giorni. Adesso vediamo se c'è qua sul libretto. Non so se c'è. Comunque i pacchetti erano cinque giorni. Quattordici e ventotto. Allora cinque giorni. È quello di peso. Mi sembra. Adesso non posso sparare. Una cagata. Ma credo quello che ti aiuta. A restare più leggero. Quello cinque giorni che ho preso io. E costa quarantanove euro. Più o meno. Più vabbè la spedizione. La pagate cinquantasette in totale. Sennò c'erano quattordici giorni. Perdi peso. E ventotto giorni. Cioè un mese. Praticamente snellisci. Qualcosa del genere. Io ho preso quello da cinque. C'erano dieci pacchettini. Allora. Vabbè la pasta e il riso. Si mangiano. Sono cinque. Se non mi sbaglio. O di più. E poi invece. Questi qui che ho preso. Ce n'erano tantissimi. Che sono questi. Non so se li riuscite a leggere. Comunque ce n'erano tantissimi. Io ho detto. Se per caso non mi piacciono. Provo quello da cinque giorni. E poi vediamo. Perché non voglio far sì che risulta come. Questi capelli. Risulta come. Natural mojo. O altre cose che non mi sono piaciute. Per cui. Ho detto. Faccio quello da cinque giorni. Li provo. Se sono buoni. Che mi piacciono. Li ordino. E faccio quello da quattordici. Ma se no. Non lo faccio. E niente. Questo è quello che ho preso. Adesso non so. Come funziona. Comunque dicono che è facilissimo. Da preparare. Specialmente questi. Che ci vogliono cinque minuti. Da preparare. Non lo so. Ve lo dirò. Vi dirò come. Se sono buoni. Vi dirò come mi sono trovata. Se ho perso qualcosa. In questi cinque giorni. Vi dirò. Quanto ho perso. E giustamente. Come mi sono trovata. Non lo so. Se volete acquistarlo anche voi. Se volete provarlo. Oppure volete aspettare. Quello. Dopo questi cinque giorni. Che ho provato io. Ma calcolate che. Questo video lo vedete a settembre. Perché ci sono tanti video shopping. Ancora che dovete vedere. Per cui. Se questo video lo vedete a settembre. Io l'ho già provato. Ma farò un altro video. Subito dopo. Dove vi spiegherò. Se mi sono trovata bene. Se è valido. Oppure no. Perché non lo so. O aspettate. Diciamo. La mia. Recensione. Di questi prodotti. Oppure. Potete acquistarlo. Vi lascio giù il link. Sotto in questo video. Di questo sito. Giustamente. E. Non lo so. Vedete voi. Io vi lascio lo stesso. Il link. Sto facendo un casino. Vabbè. Questo video. Già durato. Un po' troppo. Ripeto. Non so. Come sono questi prodotti. Perché è la prima volta. Che li provo. Sento che qualcuno. Si è trovato bene. Qualcuno ha perso. Diciamo. Chili. Grazie a questi prodotti. Perché questi prodotti. Sono sia da bere. Sia da mangiare. Li proverò. Per questi cinque giorni. E vi farò vedere. Se siete interessati. Se no. Non lo so. Fatemi sapere sotto. Se avete provato. Questi prodotti. E come vi siete trovati. Detto questo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Perché è durato. In troppo. Lasciate. Un bel like. Iscrivetevi al canale. Se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su Instagram. Lì. Ci sono. Più. Aggiornamenti. Prima di YouTube. E. Che l'ho detto tutta. Ci vediamo. Al prossimo video. Ciao.